Salve a tutti amici di YouTube, questo è un breve audio di Optiopinosi per smettere di avere paura della morte e accettare così la mortalità. Se vuoi approfondire l'argomento, clicca nel link qui sotto in descrizione o che ti può apparire anche più avanti nello schermo. Ora voglio che ti metti sdraiato, in un posto comodo, dove non ci sono rumori e nel quale sai che non verrai disturbato per i prossimi dieci minuti. Possibilmente spegni il cellulare e soprattutto è preferibile ascoltare questo audio con degli auricolari o delle cuffie. Per alcune persone l'idea della morte è qualcosa che li terrorizza, poiché non sanno cosa ci può essere l'altro. La realtà è molto più attraente e deve essere considerata per lo più come un regalo meraviglioso. La percezione di una persona con la mente aperta. Questo è l'ultimo viaggio di un mondo materialista e dottorinale. e l'inizio, ma allo stesso tempo con la fine. Ascolta attentamente la mia voce. Non lasciarti trasportare dai tuoi pensieri. Segui attentamente ciò che ti vedo. Prima di tutto, inspira profondamente dal naso, ora aspira l'aria dalla tua bocca, ancora un po' di calma. Ora voglio che metti la tua attenzione nel centro della tua fronte. Nella mia voce non c'è niente di più importante di ciò che ti ho detto di fare. Concentrati nel centro della tua fronte. Vedetevi i tuoi muscoli oculari, con gli occhi fiusi verso di essi. Sentirai che la posizione fissa dei tuoi occhi sia forzata. Ora conterò da 5 a 1. Ad ogni numero che conto, i tuoi muscoli oculari saranno totalmente rilassati. E loro stessi si ritroveranno nella posizione più confortevole che possono trovare. 5, 4, 3, 2, 1. Ti rendi conto di quanto i tuoi occhi sono rilassati in questo momento. Però allo stesso tempo può essere che non ti rendi conto di ciò che sta succedendo. Continua a rilassarti profondamente. Immagina di vedere o sentire il tuo corpo fisico come rilassato grazie a questo esercizio. e l'autopenosi. Più rilasserai il tuo corpo e più la tua mente sarà in uno stato profondo di relax. Adesso sei lo spettatore della tua propria emodità. In questo momento voglio che tu sia completamente sincero con te stesso. Non è necessario essere qualcuno che non sia volante. Di pretendere di essere in uno stato in cui non sei realmente. Concentrati nel presente e renditi conto delle sensazioni e sentimenti che provi nel presente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Può essere che ancora non li hai identificati e va bene così. sei dove sei in questo momento. Può essere che stai ancora cercando di identificare chi sei realmente o che stai analizzando il tuo passato con la tua mente conscia o addirittura ti trovi in un ricordo o pensi a qualcosa. Ascolta ciò che dico e accetta lo stato in cui ti trovi in questo momento. più si avanza con l'età e più ci rendiamo conto che un giorno la nostra entità fisica non esisterà più. Per molti hanno erroneamente paura di soffrire o del dolore che potrebbe accompagnare questo ultimo viaggio. Questa falsa percezione di questo momento futuro sta avvelenando la tua vita presente. perché il dolore è una realtà della vita e da quando siamo nati lo sperimentiamo. Però realmente questa esperienza è un regalo per sentire la vita nel più profondo dell'anima. La sofferenza è solamente il sentimento di non poter bloccare il dolore. Il dolore è qualcosa di inevitabile, però soffrire è opzionale. e sapendo questo c'è sempre qualcosa per cambiare il dolore. E i tuoi pensieri negativi di quel momento futuro non sono più necessari, non ci saranno più. Concentrerai la tua attenzione solo nel presente. Renditi conto come ti senti in questo momento. Goditi ogni minimo secondo della tua vita come se fosse l'ultimo. Non perdere il tuo tempo pensando a qualcosa che ancora non è successo. Viviti questo meraviglioso dono, ovvero la vita, pensando solo a cose positive. Vivi la tua vita senza paura, perché la paura uguale alla sofferenza è qualcosa che tu devi eliminare dal tuo interiore. Viviti il momento presente, perché è in questo che troverai la verità della tua esistenza. L'unica cosa che è reale in questo momento è il momento in cui sei, il momento in cui ti trovi adesso. Accetta la tua mortalità. Accetta la tua mortalità. Viviti il momento. Goditi il presente. Se malattie mortali fanno parte della tua vita, ricordati di queste parole. Per favore, falle diventare tua madre. Quando un ostacolo appare nel nostro cammino è per una ragione. non è per fermarci né per portarci via, ma per mostrarci quanto vogliamo veramente realizzare i nostri sogni. vivi la tua vita pensando al presente. E i tuoi risultati dipenderanno solo da questo. Adesso voglio che ti svegli quando preferisci a te. se vuoi. Se vuoi, anche adesso, che hai. E la tua vita. E la tua vita. E la tua vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.